io devo fare una cosa veramente fastidio questa festività ma è spirit che finì affatto sono tornata che schifo quella roba Marco grazie Tom in realtà non lo vedete è tutto sbagliato io non ho moro però lo sposto devo aprire un attimo buonasera disattivare sempre sono buio, completamente buio ora ma siamo sei quasi più luminoso di me comunque nonostante solo in faccia una fattura la fattura devi fare una fattura qua elicottero che schifo troppa luce va bene non importa meglio così ho ascoltato tipo 20 volte con la maledetta canzone il signor cane pazzo grazie cane pazzo che schifo l'ho detto a lui non alla canzone perché giustamente la canzone è lì tu puoi decidere di non ascoltare la canzone è bella grazie a Bragus 21 mesi come Andrea facciamo che chiudo la OPS mamma mia stai andando più scatti gli Ezra non è ancora pronto il gioco amici adesso appena finisce la live lo faccio domani mattina smonto le ventole metto quelle nuove che sono arrivate tanto non è vero che lo fai domani mattina 5 euro effettivamente sono in live effettivamente è certo beh se svegli prima lo fai tanto basta che lo faccio prima di domenica non è vero fallo subito ma non c'ho voglia devo giocare ad animal cross non me ne frega niente e poi amici sono grigie ed è tutto nero quindi dovrò coprire con l'ipitturo faccio nero è più bello già tanto le ho preso due ventole della nottua erano tutte brutte no sono due ventole della nottua fortuna sono quelle grigie perché se no di solito la nottua la nottua la nottua le fa gialle come la tua cover del telefono quindi sporche si e gialle con le parti marroni non ho capito perché tra l'altro amici l'ho anche questa cover qua l'ho lavata ieri l'ho lavata tra l'altro è ancora gialla di Dabo che aveva messo il dentifricio perché aveva letto non so su quale sito che prendeva l'aveva spasticato a tutti i dentifrici ma c'era più schifo di prima la togliazzar chissà è lì appoggiato sullo suo mano ma su tss è morto ho un pochino a scatti ma mi fa ho messo il dentifricio sulla cover come di qua che lo comparirà tra tre adesso vedi bastava direttare ma flash game divertenti da fare in gruppo quattro flash game pinturillo no c'è scribble.io anche quello che è più bello che è pinturillo fatto meglio semplicemente voi siete in live lietela nel pre-live si lui è ancora un paio d'ore fa adesso arriva sta rimuginando su si è un po' triste si vede che ci ha addormentato anche una certa gli ha preso son ha messo roba c'erano già gli obiettivi Darwin Project che forse sono stupido può essere amaro mi ricordo mai l'icona user enter your channel è morto dal sito adesso lo sai cos'è il magico mondo di windows che si mette ad aggiornare le cose adesso facciamo che intanto entro io dal sito come secondo Windows ha deciso quello che vuole a parte che ho letto che gli ultimi aggiornamenti di windows causano un sacco di problemi mi ha sempre tutto da dio a parte l'aggiornamento di chi sa quanti aggiornamenti sai non è vero ho riavviato ieri sperai fatto più sbaglio ma dove l'icona non trovo l'icona di darlo conad sarà un'icona di quelle terribili che si devono vergognare non ce la stai facendo io vorrei passare un cazzo di codice vorrei passare sempre a favore tutti e due io ci sono qui è tutto un interno al botto marza ma che cacchio di conad dove nicola dove nicola nudo sei rientrato nel sito io l'ho aperto dopo non so quanto ci metterò ma c'è a seo se no non vedo una seghe ciao ciao voilà allora tac to connect basta chiedere una qua poi devo metterla nel discord è andato sopra conte il magico mondo del discord ma no ma è sbagliato sopra a conte perché è sopra conte senza la a sopra a conte no è sopra di conte no sopra conte va bene va bene anche a no è sbagliato sopra a conte è sbagliato grammaticalmente e credo sia dialettale sopra a conte la robbie è arrivata a fare non lo so vabbè comunque me ne frega una sega marco sarà sbagliato ci si inculla alle 1 eh certo cosa scrive capcia termocrossing e purtroppo stasera non lo facciamo lo apro marco entri per favore sto aspettando te non mi avvisi io a casa ma sei lì da guarda dalle 20 0 di vuol dire che mi hai avvisato in due minuti sono passati tornato chi è che è tornato che non posso vedere guardo io la robbie che dice 26 roberta grazie ti bacio in bocca facendo anche aumentare le tra insomma marco se fosse sbagliato sarebbe sbagliato anche sopra alla contessa ho messo su discord non è vero ma che conte non è proprio vero mi ha sbloccato un'altra cosa ah ho finito il posto per le carte chi è ho messo il telegram dei sub e discord nella stanza dei sub se volete entrare mi raccomando entrate perché se no mi incazzo come una iena una iena incazzata com'è che fa così no no dici è buono non l'ho conosciuta personalmente tieni palla di seme livello 4 tra un po' faccio livello 5 palla di sesso faccio stasera livello 5 una partita la voglio grazie a gabriele e silvio 2 grazie mille grazie a te grazie mille per la compagnia e le risate soprattutto in questo periodo grazie a te non entra più nessuno 2 4 6 8 palla di 6 vabbè prima partiamo anche così parto parto 3 adesso siamo partiti è via verso un altro è stato calato il valore dei punti si l'ho fatto stamattina mi ricordavo era 8000 ti ha detto ma li metto 6000 ma si non lo cambia niente ma si ma si non lo cambia niente ma si ma si la cosa ciò qua è la alien shiver anche se applauso a distance in the morning in the east inserirlo in play custom mettete il codice e vi join esatto se non siete riusciti adesso riuscirete sicuramente la prossima partita ragazzi per chi vuole ci sono tutti i lavori del creatore di The Binding of Isaac in sconto su steam è vero l'avevo visto da 130 a 18 euro del genere si beh è una roba incredibile molto incredibile anche solo Isaac 18 euro per Isaac con tutti i dlc è ottimo per me è anche solo quello eh si anche perchè che cazzo ho di altro fatto è quell'altro nuovo che non so neanche la cosa di Legend of Boombo che non me ne sbatte non so se è andato bene in realtà guarda ma non me ne frega neanche niente Marco quello è un albero me lo ciuccio ma sto già morendo ma liezer ma sei un pusto l'ho messo a casa guarda tu quindi Marco è lì eh ma andrò via immagino certo te lo auguro voglio dire ma qua c'è la montagna mi farò a sbattere tornare indietro vedrai ho sbagliato ho sbagliato voglio questi legni tutti i legni stonks come stonks tutto posto questo come ogni battle royale che si rispetti all'inizio si farma eh beh certo sex beh in realtà no non in tutte tutte Marco non ce n'è mezza dove non si fa eh fammi un esempio eh pubg beh si farmo le armi non si farma all'inizio no ma come no cacchio farmi in pubg le armi ma mica farmi eh sì e farmi quello devi andare a cercarti le armi e tutto devi equipaggiarti a modo io ne è stato chiamato io è ma è lui che mi seguiva io non volevo penso sono riuscito a portare avanti la discussione mentre combattevo sono bravissimo sono sicuramente fenomenale a volte fammi mettere questo cazzo qua vediamo di fare le robe non ho capito e fatto ignorato semplicemente cacchio cacchio chi è che diceva your sister quando c'erano queste situazioni in generale eh per sicurezza your sister era corvo corvo? si carim dicono forse carim eh 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 amici io mi ricordo anche corvo non so commento sul perché carim non è più in ttt fra tre e due fai mettere la freccia dovrebbe tornare giovedì ttt tra l'altro carim dovrebbe tornare giovedì è partito questa spedizione punitiva nel dubbio assorato sì quello vabbè quello si dice ero nel dubbio assorato ma basta ma lì azar poi purtroppo è mancato ma lì non si può andare porca minestra double shit double shit is now arrive io devo trovare la double shit mi sta facendo soffrire è diventata una tortura sarge sono una pippa a sto gioco vabbè ma si fa per divertirsi ma si ma chi se ne frega anche perché i più forti sono sempre a noi nuclear missile sa che l'hai capito o l'hai capito no l'hai capito si muore sempre da stronzo non è possibile no forse si salva sarebbe fare un commento ma ho una clip che è purtroppo no si salva ma è bellissimo arco non dirlo a me con la sedia di legno eh porca vacca sa che è la ma scatta solo a me la live dice rosso non so non ha scritto nessun altro vediamo un attimo non c'è non ci sono dei problemi no non sta scattando quindi non dovrebbe scattare no la sto vedendo adesso non sta scattando al massimo prova a aggiornare la pagina se vedi scattare amici domani mattina mi raccomando animal cross ma niente oggi devo farmare di brutto oggi devo farmare dopo il piccolo problema di stamattina è morto lei capini è morto per il freddo finita la live scappo su animal cross anche un'ora per vendere le robe ma ci facciamo questo 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 ciao a tutti quelli che stanno arrivando adesso bellezza questo perché no si domani facciamo metal gear solid e dobbiamo parming che sta settimana probabilmente lo finiamo parming abbiamo lasciato tutta la fattoria si è tutta lì ha i ravanoni dobbiamo un po' sistemarla anche perché abbiamo preso il nuovo la nuova parte di pippo è vero abbiamo preso tutta volta abbiamo preso il nuovo esso chi è che è morto morto thunder thomas thunder ma che mi combini tanto muoio anch'io adesso io non ho incontrato una fava di nessuno fino adesso io prima questo poi io non ho incontrato nessuno non ho incontrato nudo sai cosa vuol dire nudo è nudo veramente cos'è sta pestilenza defloro la lava vabbè chi è zon beh non c'è bisogno che non lo fa no la sta facendo o si tu ti sei al 6 ma mi stai seguendo ma mi stai seguendo no è che pensavo fossi lotto ma io capito ma no marco ma sei allora è partito mi ha tirato la bomba mi sposto l'ha tirata di nuovo mi risposto mi mette la lava dove c'è che deve andare l'ho fatto senza sapere che ritengo che ritengo eh certo sicuro eh ho passato tutta la parola c'è il di mignolo mi fa male quanto corso e non serve correre col mignolo per dire per dire amici sto a guardare per colpa di questo qua guarda te è il mio lavoro e va solo su di me scusami è un lavoro a senso unico la bomba l'ho lanciata di cui entravate in 5 nello stesso punto ma qui ero in una zona che non è che ci potevo scappare beh è arrivata la lava sono affogato perché ho chiuso lì l'hai capito si vedi chi si è rimasto moro sweet dreams chi e poi c'è anche the flex detto anche the sex the sex the sex the sex hermonezza perché assomiglia vagamente a tono smith qualcuno ha scorreggiato l'avete sentito? no moro forse è stato tu no qualcuno ha scorreggiato me l'ho sentito io stavo seguendo te tra l'altro ma tu hai le scarpe arancioni no le scarpe di lana che fastidio silenzio a capeta gianni vi ho ucciso in due con la lava se non sapete camminare no no io non potevo uscire marco chi ci crede e poi sinceramente dopo due volte che ero scappato ero anche un attimo con le palle rotte per la terza volta via da me non ho capito la domanda scusami che bordi non ho capito la domanda le scarpe di lana con la neve si diventano tutte fracciscate e tutte plop plop vediamo un po' vediamo un po' sono veramente che non ho incontrato nessuno controlliamo la mattina se abbiamo fifa ancora installato ma la si sa mai non ti darà mai più no l'ho visto prima sul desktop assol allora sto facendo un potenziatore adesso sono due questo è il golf e la cosa speriamo di quell'altro non si sa che non occupiamo di quel giocco là di cosa? dobbiamo adesso dobbiamo vedere non è mai uscita nessuna notizia no pensavo che ci giocavate due mesi che ci giochiamo che adesso appunto mi piacerebbe trovarne anche un altro per fare la rotazione a tre per i sub solo che non tocchi per i sub cioè giochi da fare con i sub con stanze chiuse così o fai tipo scribe l'io potremmo provare a farlo qualche volta allora io non ho incontrato nessuno dall'inizio della partita non è possibile 10 ne ho uccisi n'ezar uno io quindi non è che cos'è solo? questo rumore di robottini slim sniper shady grazie mille per i 100 bits grazie slim buonasera ragazzi grazie per la compagnia siete i miei elettrodomestici grazie slim per i 100 bits grazie mille sacca fatto l'appegato ho tenuto il quello della poca gravità mi sa che alla fine non si poteva la vincere dobbiamo fare noi dobbiamo fare provare a fare scribe l'io io lo voglio fare una volta caspiterina mettila password gli stipiti chissà che su non è detto che su creatore passa il codice non è detto che su playstation si possa fare su playstation non è detto che perché altrimenti non mi vengono in mente nuovi giochi da fare con i sub e quando uscirà ciao morenix quando uscirà con la di tipo vai a capire quando esci io volevo iniziare a mettere effettivamente non si sa nulla mi piacerebbe mettere una rotazione tipo a 3-4 giochi non sono fascinato ciao morenix purtroppo ah no si posso lanciarlo ok per darvi anche più più varietà per giocare a più cose perché se no sempre stesse cose più ci pufiamo bello provare da me golf golf non stanca mai grazie mille grazie per il 31 mesi fermo scusate la domanda ma voi avete ancora un codice sconto per noi per noi non ce n'abbiamo più adesso l'abbiamo avuto quel mese lì vanno sopra il conte ma domani c'è il disney plus io lo guarderò già stanotte se riesco a qualcosina dopo la mezzanotte sempre se vanno dopo la mezzanotte minuto più minuto meno ma che palle si può volare ma a me è andata peggio per favore guarda che cacca peccatoria che è ho sentito un suono incredibile che è? è lì? apre le due di notte giustamente anche per cosa? probabilmente è disponibile per le due di notte apre le due di notte bravo non vedo un cazzo no volevo vedere il catalogo ma perché due di notte? che horario è? è perché per evitare che ci sia troppo flusso di gente all'inizio e vabbè chi se ne frega è perché non mi puoi sarebbero esplodo sto morendo di freddo il mattino dopo come pensi che sia sono morto di freddo io praticamente chi ha vinto non ho capito un cazzo era veramente una merda con la gravità così hai rovinato veramente tutto non è vero perfetto era una merda era ovviamente a sweet dreams mi ha sbloccato un'altra cosa mi ha fatto un po' ho fatto grazie a vittori che ha fatto i 17 mesi grazie a vittori non l'ho sentito ho sbloccato il manut costa 5 che? manut player becomes everyone spray menant manut cos'è? manut chi ci dice ma no ma l'unico se la passate finalmente la mia tenta ha deciso di chiudere fino a 6 di aprile però ora visto che andare a lavoro in questo periodo è diventato pesantino buona continuazione bb grazie mille grazie giuseppe vabbè bene adesso siamo con noi però proprio non avremmo calcolato la quarantena quindi molta gente non dorme vediamo no si però alle 2 di notte comunque c'è comunque meno afflusso di gente no anche secondo me il mattino dopo c'è il problema wallet però possono gestirsi meglio i server che capiscono quando serve magari aumentare i server quando server aumentare i server entrate che poi matto matto la password voglio provare la nuova carta quindi faccio di nuovo eccomi qua ma se un cavallo corre su un ponte e cavalca via ma ti permabanno cosa serviva questa battuta adesso scusami era una goliardia ho capito ma è inerente affatto di metto la password nel gruppo dei sub e metto la password nel gruppo dei sub entrambi i gruppi dei sub mi raccomando cosa posso togliere entrate in gradazione crescente in realtà la parte più divertente è in gradazione crescente stermina chiunque senza metterle è che sono sbloccato un sacco di roba palla di seme palla di seme anche a te fammi mettere questa palla di seedorf anzi la palla di seedorf è un po' incredibile aspetta a partire moro sono in attesa siamo in 3 questo, 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 questo ma puoi tirare anche in bollo la palla di seme cos'è che sta questando? uff no sto mettendo le carte perchè non posso metterle tutte quelle con adesso non sta entrando nessuno di nessuno palla di sesso è enterata, è enterata chi è che metterà la palla di seedorf che schifo no? è palla di seme invece, guarda quello che può con la pasta è un visual si è rientrate tranquillamente palla di seedorf palla di seedorf moro cosa? ho avuto molta paura quando ha detto palla di seedorf ho pensato una cosa ben più schifosa che schifo palla di seedorf chi è che sta uccidendo tutti i tastier a tastiera? ma lo sapete usare un mi... ma senti qua che ravanatura, ma com'è? eh si hai capito palla di seedorf sto stremando me palla di bimone palla di yakal e l'impasto dei seni delle monache come? delle monache palla di sex palla di sudore palla di sudore il palla di sudore che schifo vuol dire palla di sudore Ma allora, palla di P... Eh no! Palla di Pus! Non lo so, Babystick, non è nostro Palla di Wilwush Palla di Spessuale Palla di Spessore Palla di Six, is it Palla di Six, is it No, palla di Penis Oh, io parto eh! Guarda, c'è qualcuno che sta entrando e rimane fuori o posso partire? Oh! Oh! Però la connessione quando fa PC mi fa mall Oh, non ho capito Oh, chi è che adesso usa la tastiera? Gian Gianni! E basta! Queste tastiere, dovete insegnargli a star zitte per favore Quindi parto tra tre, adesso Ma c'è Gian Gianni quel maledetto, dice Vector C'è del precedente Ma Slim Sniper ha altri 100 bits Grazie per i 100 bits Ah, comunque stiamo aspettando un ritorno della Faida Zuppa di culo e Marco Columbro L'Umbro Arriverà l'episodio di Worms, amici e sarà domani No, dopo domani Perché domani no? Non so, stiamo improvvisando Sì Però è vero Dove succede una delle cazzate più grosse della saga di Worms Non sapete che Moro non sa giocare a Worms Ogni tanto... Preparatevi perché quale potrebbe mai essere una cazzata Fatti amici Cioè per me è... Guarda gli episodi vecchi di Worms Per me è a livello dell'episodio Il buco maledetto Non lo so Può essere però Può essere Secondo me è quello il livello che ha raggiunto questo episodio Allora, a parte il fatto che c'era Moro quindi sicuramente mi ha distratto lui Mi prude il naso sti giorni in una maniera... Cioè i fioretti... Un migrato con i baffi Un migrato Antonio e spoglie Ma non è un... Ma mi son fregato da solo Credevo fosse un barile con i punti Invece era un... Era un punto con il barile No, era un... I punti della barilla Un puntamento Ma non sai che mi va il testo rosso di nuovo? Ma che cazzo me ne frega Marco Mi sono incastretto Ok, mi sono uscito Ora devi rispondere bene Scusami, Marco scusa Oh... Sessuali Però Marco, cioè... Capisce che... C'è sempre nel punto in cui c'è più gente Allora gli è da 14 persone da potermenare Ci dai 5 intorno te C'è... Ce ne sono i restanti 8 E no, sono i restanti 8 in totale Vabbè Secondo me stava sparando un po' di cazzate Marco effettivamente Andrebbe più molto andrebbe Voglio provare la nuova carta Quasi cosa la provo subito Certo, perchè no? Provo? Certo Animo l'alfa Cos'è? Sono... Ma... Minchia, scusami È una cosa gravissima Ma ti vedono tutti? Ma ti vedono tutti? In realtà... In realtà... In realtà sto cazzo scusa Eh vabbè ma tanto se 5 sono qua e lo sai Moro E non so dove sei, qua dove? Eh... Non è vero Perché io lo so dove sei Cazzo Beh ti ho spoilerato Moro Ti ho spoilerato Moro Ti ho spoilerato che non sei con me Tutti di lo stesso punto Certamente Vabbè tanto sono tutti lì veramente Procatroia Anzi guarda me la prendo anche comodo Non mica c'è arriva Adesso la generale non farlo sgaggio Che poi ti arriva uno da dietro con un macete gigante Ma io vi vedo anche io Vi vedo Marco tutti In realtà ti vedi visualizzato per un sacco di tempo Questo non sa Eh ma devo farmi le gona di tutte quelle robe lì Le gona di ti devi fare Sì Marco A Moro gli piace il budino al cataro Adesso Tensive Clown Volevo farli sapere tra questo e Brawl Stars cosa c'entra Cioè vorrei capire le similitudini del gioco Ma cosa cacchio c'entra? Vorrei capire le similitudini del gioco È veramente un commento da rincoglionito Dai adesso voglio sapere Perché Ma no è come se uno viene nella line di Need for Speed e mi dice Ma basta giocare a questo c'è FIFA E certo Cioè io vorrei proprio sapere È veramente da Da incazzarmi Come una bestia quel commento lì Aia Eh Qualcun ti ha raggiunto Aia Ma non farei caghetta eh Ma lì adattanto ci odia Ma non ci siamo presi? Ma io non c'ho le robe Aia No Cap perché? Che bocca di più se te lo è Azz Ma non è ase o Ma non è ase o Ma non è ase o Ce ne ha ase o C'è ase o in partita scusa Non lo so io ho immaginato No no vabbè Va bene capo tranquillo Hai ragione capio, lo spoverino, non so capir Quanti punti c'hai Mark? Eh? E' ucciso Moro? Eh capito va Eh ne avevamo farmati un po' si vede Infatti usali tutti di usali Eh aspetta che ho paura che mi insegue il pippo Non so dov'è E lì davanti Se vuoi entrare e Zeo entra pure Bel lavoro dell'ostia Con chi me la prendo io, Zeo, scusami Come ho fatto? Ha campato via nel nulla No, ha fatto una figuracce Carissa Marco, hai finito le fece Dai non gli manca Non so capio nulla Marco, one man one jar, mi raccomando E niente, sei morto Marco, di nuovo con la lava ti uccide Non combattere, scappa via In quattro siete su quel punto Non vedo niente Marco, devi andare presso l'alto Eh, volevo andare a uscire E' troppo tardi, sei morto Quanti le ho uccisi? Troppo P Ma sta lava è troppo P Ma in realtà è una cazzata Le ho uccisi 3 le ho uccisi E ho capito, ma io che non volo, scusami E infatti devi scappare su Se sei rimasto a combattere No, ma è che volevo uscire dalla zona No, è che sei rimasto a combattere per troppo tempo Appena è uscito fuori devi scappare Sì, ma anche altri due sono morti Comunque L'altra volta ne sono morti 5 Secondo me è un po' troppo P Oh, l'altra volta non uccidiamo mai nessuno Ah, chi era proprio quello? Il suo direttore è ora attivato in elettronico Il suo lavoro che fa il servizio del darwinian ha arrivato Chi c'è rimasto? Il servizio del darwinian ha arrivato Sì, ma è un po' di più Guarda, cato bleppa Adesso io Ma sono Laika Pinis Johan Mavern Sweet Dreams Mi ha scappato prima E' l'unico Lui non è Ma lui non è morto Ma mi sa che lui è uscito dove volevo andare io Mi riesco a uccidere gente Mi da carte Così sblocco più robe Ma io gioco però Dai, prova a farne una Non gioco da due settimane In realtà l'ho approfondito Ah, entra, entra Ah, qui c'è un combat system Meglio la nuke che hai più tempo Eh, ziii Ma la nuke... Quella nuke veramente non uccide mai nessuno La nuke fa solo scene, basta Sì, la nuke per uccidere... Non uccide No, no Remanente che mi sa che ha ucciso anche lui Mi chiamava molto male eh sì Esi Bentornato a remanente per i due mesi Ma stavolta ho chiuso alla chiesa per farne queste La fama fa molto male, eh? L'ho detto adesso Il casseletto La lama La lama Cioè, questo capito è la malattia mentale che ha Marco Marco è veramente, cioè Marco è da un po' di mesi che ogni cosa che sente per lui è senso Veramente Ma scusami, ho detto l'amo e fama, non è che ho detto Sì sì ma tu pensi sempre solo al senso ovviamente A parte che è bellissimo se posso permettere Sì ho capito ma però un martelletto Almeno io mi cazzo per sopperire questa mancanza Ma io ti fai diti meno io Ma sì Dove, dai C'è la quarantena Eh, ah, c'è la quarantena Un scuso è buono Prima era, siamo troppo lontani Ma, non so E te la cavi sempre, vedi Ragazzi è una passione come un'altra, beh È sana almeno E poi dipende Ma quanto ci mette adesso a darmi i punti? No, non me la frega di Alex, guarda Ma cosa fa? Tanto sui trims che non c'è un cazzo di vita Ma da prima eh Ma è ancora sopravvive Ancora Eh ma tanto se non trova roba per curare Cioè in realtà per curare Potrebbe Potrei Potrei trovarla Potrei uccidere Mavram eh Ma cura il povero Zedri Ma che cazzo Non ho mai sbloccato la carta della cura Eh Eh Bisogna vedere Migliore per cosa Il sesso, dici Una passione migliore Che truccare i motorini In realtà È molto più sano Truccare i motorini Il sesso è pericoloso ragazzi Non fatelo Poi siete sempre incazzati come mono Anche come Enzi Auditore Ha la passione per la toppa Ma me l'aspettavo il finale E però è vero? Vero sì Non lo ricordo anche io Guarda che questi qui muoiono tutti No È troppo lenta la mia Tutti Guarda il 6 come muore Chi è? Maver Ce la fa tranquillamente a uscire I celli portano malattie È meglio tenerli a chiudo Ti avevo promesso Grazie appone Guarda il medio Grazie No vedi Guarda ce l'ha fatta tranquillamente È morto Hai visto? Guarda Quanto si espande lenta Guarda se la quarantena mi viene distante dalla mia ragazza Non c'è problema E niente Fammi andare a vedere gli altri Che stanno saccagnando di botte Niente ce l'ha fatta Un 18 tutti qua Radio ascoltatori Eh? Posso vedere se c'è ancora vivo Incredibile È un mastro fuga È come Come le valkyrie È come le amazone Lui È rallentato L'avvento di Ah no Adesso la velocità Quando rimangono due spazi Bravo Lei capinis Ha fatto due belle pressate Ha fatto due belle pressate Dov'è? Ha fatto due belle pressate Questo è morto Non c'è accorto che non c'è più freccia Eh, c'è accorto Ma non hai pantaloni Lei capinis Ah ma non ce li ha più È vero Sono spariti anche a me Cos'è sta roba? Cosa si titolano? Un teletrasporto Incredibile Ma che roba era? Incredibile Non lo so Sarà che non hai pantaloni Boh Ma non hai le frecce Basta Non hai le frecce Sono rimasti invisibili Capita Jepp Ah, le ha presa nel culo Però gli sono ricomprosi i pantaloni Perlomeno Ha perso di nuovo la freccia Ma stanno... Ma le ha capito Così stanno perdendo tempo Sta per arrivare il gas E non è gas Perché giustamente Si punzecchiano Non notano Infatti si è allacciato le scarpe Adesso è pronto a correre Secondo me Maria De Filippi Cosa fai? La presunta figa La presunta figa Fuga Quella lasciamola da parte Niente Sta morendo Adesso che fai Leica penis Ah, già Eh, ma non serve il fuoco Eh, in realtà si Però Voglio vedere Anche se il 6 Si stanno slegnando Si, si Fa proprio il segno Questa la spostiamo Da questa parte Che fa per quanto È incastrato Leica penis È morto Si è incastrato È morto Ho detto io Ma Sweet Dreams È ancora vivo Poi Ma anche Maver Ma l'hanno sputolito Ma Maver Stava combattendo Sweet Dreams È da vivo Da prima Ma hai rimesso La gravità Nell'ultimo pezzo Perché costa troppo Non so mai Quando lanciarle Ho capito Ma fa cacare No È un terribile Leica È una merda Combattere così Fa proprio passare la moglie Cioè tu sei ancora Segnato adesso Non è possibile Io vedo ancora La barra del Lunted Che rischia Che rischia Qui sono gli altri due Lui Dreams Che se la sta Giostrando Giocandossela Stealth Ti immagino Ma Cesar Non c'è niente Non Cioè avevo altri messaggi Ma non eri tu Vabbè Non è niente Cos'è Una cosa importante Quanto Cesar Quanto ti fai Per caso Gli hai pagato qualcosa Perché mio padre Si rova Che doveva pagare 30 euro a passo Per il desiderio Il contratto Non mi ricordo Ma per me è morto Dove va Dipende Credo dipende dal contratto Da quanto tempo C'è il contratto Ma Sweet Dreams È arrivato fino qui Certo Incredibile Però io è rimasto con Johan Che è full vita E lui no E lui Si è ristretto tutto Uh che lisci Un'occhio liscino Che lisci ancora Espezione Sweet Dreams Campione della fuga Ormai Oh io che morto Campione della figa Lo butta fuori Attenzione Fuori anche lui Però Eh però Se vanno avanti così Sweet Dreams muore Per il freddo Eh Beh no Non penso durerà molto Bella Attenzione Una botta Inizia a congelarsi Il bus Tecnico Ha vinto Sweet Dreams No non è vero Sì Sweet Dreams Ma non è vero No Ha vinto l'altro Il verde Il verde non era Sweet Dreams Ma non era l'altro Sweet Dreams Ma ha vinto anche prima È già la seconda che vince Ma è incredibile Da infame Da infame ha vinto due volte Che cantino No prima non ha vinto L'altro Non è vero Anche prima Secondo me era di infame Solito se esci prima Della scrivenza del contratto Di pagare una penale Ma io non l'ho pagato È illegale la penale Quindi Almeno io ero rimasto Che era diventata illegale È solo che la camuffano Con Devi Ridarci La caparra Del Router Preso a noleggio Queste robe qui Se la giostrano così Vediamo se riesce a fare tripletta Scusa ma Se è illegale Come fanno Eh La camuffano in un altro modo Non è più la penale da pagare Ma è da pagare un'altra roba Proprio povero Proprio Proprio Dalio The Dream Nuovo Aseo No Aseo E la sua particolarità Era che arrivava Al momento giusto E fotteva la kill Arrivava alla fine Delle Delle botte E cullava le kill È vero Anche stasera Cioè Harry Potter Su TV E anche Rock One Cioè Tutti Vabbè Vogliono Giustamente Metterlo Tutti e due sulla mediaset E però Tutti e due sulla mediaset All'altro Ah No Sul 20 E sui taglia 1 Io la tv Non la guardo veramente Enterate Enterate Per entrare Dovete cliccare Su custom Poi in alto a destra In alto a destra C'è il cerco Con codice Metti codice Una roba del genere Ficiamo Miss No Metti join password E poi metti il codice E l'ho finito di vedere Tutti adesso Harry Potter Me ne sono riguardati Finito l'altro ieri Che truffa Allora Metto Nel sex Il codice Parla di sesso E anche sul discord Si può rientrare Aspettate un attimo Magari rientrare Fate vedere Se entrano dei nuovi Palla di sesso Ma io stavo pensando Ma io voglio Ne voglio altri Di netto Di Quante carte le vuoi Tu vuoi pagare Scusa Ma perché c'è C'è l'HBO Per esempio Ha capito Perché l'HBO non c'è Ma in Italia manca Il sito dell'HBO E manca Grazie Raffarex Comunque per i 5 mesi Hulu Hulu anche Questi qua sono bellissimi Io li farei Magari mi togli qualcun altro Per qualche mese Demanda loro l'ho già visto Ma lo recupero sicuramente Demanda loro E questo è free to play Noi l'abbiamo iniziato a fare Proprio perché Free to play E lo possiamo fare Rientrate pure Rientrate pure Anche noi ci hanno rotto Poi le batterie Sì Beh questa qui Un pochino diversa Però quello che la faccia È molto particolare E particolarmente adatta Agli streamers HBO L'HBO Lo ha Sky Infatti hanno Sky ha trasmesso Però c'è un outv Sky che mi fa schifo Come player Come tutto Tra l'altro c'è l'offerta Team Vision Plus Sia con Disney Plus Che i primi tre mesi è gratis E poi costa pochi Tipo tre euro E non è male Se avete Team Vision Siete da soli Più che altro È molto molto figa Quella cosa E Team Vision ce l'ho E poi fa No Fra lì c'è scritto Team Vision Plus Non so cosa signale Ah ecco Quello che paghi Oppure No Oppure semplicemente Si chiama così Quello da mettere con Disney Quindi Io sono Team Vision Base Perché Non so cosa sia Team Vision Plus Comunque sì Viene tre mesi gratis Credo che Team Vision Base Sia quello che ti danno Col contratto Dove dentro non c'è tutto Esatto E quindi Team Vision Merda E il Team Vision che paghi Puoi metterci anche Disney Plus Ottimo Aspetta vedere quanto paghi Team Vision Plus Non so Parto C'è Gian Gianni Castoro Che è lì L'offerta attivabile Con Team Vision Base Quindi Si chiama Team Vision Plus Semplicemente Perché è Team Vision Più di Disney Plus Allora Se non avete nessun altro Con cui fare Disney Plus Fatelo su Team Vision Siete da soli Perché ci sta Allora convence Però la parlo Eh beh sì Beh sì Però paghi anche Disney Plus Assieme Paghi anche Disney Plus No ma io ti invaso Non lo pago No perché c'hai Perché c'hai la bolletta Io che c'ho Team Moro c'è la mia stessa cosa Ce l'abbiamo grande Tutte e due Sia pensile Sia annuale Gian Gianni Tu non entri Ma io parlo Perché Hai già entrato Sta parlando Io vedo maver Ma è questo Io vedo che parla È vero che però C'è Gian Gianni di là Ma c'è neanche un altro Che carica Vabbè Entrambi 3 euro A parte che conviene Lo stesso fare Quello Però no Io dicevo Se io c'ho Team Vision base Perché ce l'ho incluso Con Team Lo andrai a pagare Probabilmente Lo paghi lo stesso Sì Lo paghi meno Però Lo paghi meno Io poi Più che altro Perché Io non essendo da solo Lo pago già poco Se no con Team Vision Mi conveniva Spostato da solo L'avrei fatto con Team Vision 10 giocatori Più il Quello che faccio io Che mette le trappole Sì Il director 10 più 1 Devi attivare il pacchetto Ti passa plus Con in più Disney plus Che arriva Come idea Non è male Quindi Team Vision qualcosa C'ha Quindi È sempre una cosa in più E Vision si passa Delle cose Sì Cioè l'ho aperto una volta E l'ho chiuso Perché non Però finché paghi 3 euro Poi Disney plus Io guardavo Detective Conan Su Team Vision Poi l'han tolto Beh Era l'unico che aveva Detective Conan Però il Disney plus Se lo fate entro stanotte Costa meno Poi dopo Si lo fate per tutto l'anno Però Sì L'annuale Perché il mensile Scatta da domani Di farlo tutto l'anno Non lo fai tutto l'anno Metti che dopo il primo mese Non c'è più un cazzo Ma è che a prescindere Comunque Io l'ho fatto tutto l'anno Anch'io Qua tutto l'anno Poi vediamo A prescindere C'è la settimana gratis Non ha senso Per me fare Vabbè Sei sicuro Che non è No Non sono sicuro Per quello Nel senso Se non so cosa ci sarà No Infatti aspetto Eh ma appunto Perché se sei Cioè se lo fai con Troppo Visto che lamenti Che la lancia adesso Ma porca Ma vedi che bello Ci sono tutti gli oggetti Che volano Visto adesso Chi è che premi i tasti Abba questo Malinfame Senti senti che Mi vuole uccidere A suon di tasti premuti Lui Dai via Abba Che mi dai fastidio Vai via Eh Federp Teoricamente Tutta Europa Domani Tranne in Francia Da quello Capito Perché i francesi Si sono comportati male No è perché Il governo Ha chiesto A Disney Plus Di rinviare Perché c'è Il troppo sovraccarico Per internet In questo periodo Secondo me Perché i francesi Si sono comportati male Mamma mia Mamma mia Mamma mia Me lo sono perso Cos'è successo Me lo descrivi? Sono volato in cielo E l'ho colpito dal cielo Verso il basso Però L'ulti di coso Come si chiamava Quello di smite Che faceva l'ulti così Che partiva in aria Colpiva Artemis No era Neat 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 Porca misera Non mi ricordo più Thor No Thor era col martello Si lanciava col martello Thor ne faceva uno Si Rama Esatto Si Rama Che saltava Ho fatto veramente Un ulti di Rama Però al primo colpo Bravo Yon No una torretta Fisico Interessante Tu Ss Dai A me Tu Rama era quello di nera Come la tua schiena Vestite Era quello no? Ma non lo sto pigliandolo L'ho ucciso da bestia Ho fatto anche un colpo maestro Mi avete visto? Mi avete visto? E Yon Perdonami Non fu Scusi Cominiamo sempre di fianco Effettivamente Poltro Darwin Eh Non ridi Ridi a sto cazzo Ehehehehhehhehe E' valutato E' l'imperatore Grazie imperatore Svai Grazie imperatore ognuno imperatore della prima tra l'altro non ti ha chiccato non so perché era come la buttega e la rifacco di stasera siamo Ilaria uno di legnetto teniamocelo sempre ma l'avete visto anche voi si ma hai rotto le palle sto solo scappando guarda a te che bello vuole apparire un po' deve soffrire io voglio apparire è morto remnant remnant dobbiamo giocarlo non sono io ah ma io dovevo fare una cosa dall'inizio mi sono preoccupato dovranno 90 euro io voglio aspettare che si abbassa un po' tanto adesso roba ce l'abbiamo dovevo fare una cosa importantissima la cacca? quella è importante adesso tra 5 secondi la cacca è importante in effetti come la dentiera se non te la lavi se non zuzuz aseo dai ma sto scappando io mamma pa è un aseo si ma io sto scappando lasciami andare via non me ne frega niente di aseo guarda ora sono io brucelli voilà are you the dick aluva aluva aiuve 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 facciami le robe va la prima cola al gusto di melone limone al gusto di limone bellezza guarda cosa che è esploso il robot che dice? che fai thunder hackeri? soprassiedi alle regole? però i comandi funzionano proprio qui amici ma vi siete mai chiesti? come fosse le due una cosa senza sesni? eh il bottiere un blocco la juve andiamo a colso a me ma può essere ma può essere no può essere che il vip permetta di fare quelle cose ah può essere si è che non siccome non c'è il menu del vip ma questo è un cagavere è morto grazie baru per i 22 mesi grazie mille come la subaru bello ah ma proprio non era vip allora non è niente non è niente si è rotto come al solido ma io l'ho trappostato ma sempre oh capito sei un vostro idioso sei io non colpivo a zeo forza zeo vi ho tirato 10 frecce nel naso me le ha schivate tutte in qualche modo non sono anche me a zeo appunto non è che no lo colpivo ma sentivo team come se me l'avesse colpito la freccia ma in realtà mi stava mi stava facendo altro come la dentiera vestito di sera infatti ero convinto ero tranquillissimo perché sto vincendo gli ho tirato un botto di frecce invece come mi ha fatto un gacchio ma è fissuto all'anted magari gli davo premi in teoria dovrebbe perché se no è una merda si gli ha dato un sacco di rocce ha preso anche la mia roba no no proprio adesso gli ho dato tipo 150 punti un po' di legna più una maybe kit vabbè c'è un po' di punti è la stessa cosa a Biura di me a Biura di me a Biura di me nuclear missile has the launch of north east zone ah tu la chapa tu la chapa me ne vado ma vedi che tira non andare via è lui che le devia che da me non lo faceva vedere il spectator lo vedo quando lo fa ahio applauso quanto stai scappando capito c'è il nuclear ma sono morto ma guarda te asio infame è arrivato proprio quando avevo poca vita e mi ha ucciso ma come? ahahah ah per metterlo moro c'è il giuffetto fatto di ollo era metterlo perchè? è grande ne ho capito marco non esistono più i barbieri moro io mi faccio a zero ma ne fregono a segme io voglio farmi a zero anche io e poi dicono oggi mentre faccio la dojo mi faccio a zero tanto non devo uscire quindi chi se ne frega però sono in live ma vabbè ma in live ti metti il cappellino facciamo i truzzi per finta tutte le sere ma che palle non mi crescono più i capelli no sento pelato se ti fai in no 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 si sta caccando addosso Sve dreams no chi è? sweet dreams dove vai? sweet dreams vrong direction e ce l'ha fatta bravo ma lui è il master maestro della fuga si lui è il maestro della fuga scusatemi però gli stanno piusciando l'amo eh io faccio le minacce Gabriella perchè così mi carico da solo Guarda quanta lava che c'ha. Guarda che mi sto odiando i capelli. Ma non a zero a zero, Memis. Facevo a rasato un po'. Poi dopo, una volta finita l'apocalisse, andavo a... A rifarmi il naso, tipo, una roba del genere. Ma per te non è più facile accorciare, di modo? No, come faccio? Vabbè, hai un modello solo. Lì raccordi un po' ai lati e te li accorciò. E poi viene tutta una merda. Perché i lati come sono? Dove iniziano? Non lo so, io non sono... Parrucofono. E mi stico facendo. No, no, ma io ti ho detto, io avevo una paura bestia. Poi non ho legno. Non ha niente, non ha... Non ha legna, non ha niente. Chi ci crede? Guardate... Ah, che figura. Che spalle, Abba? Non devi accacare. No, Abba! Ma Abba, è vivo? Si che è vivo. Ma ci riesco! Sta litigando. Ah, se ho delle mie palle. Questo è dissing. Questo è dissing, Abba. Ma se io ho delle mie palle, io te lo dico. Ha detto, se io ho delle mie palle. Va che culo. Di Lorenzo? Si. Bravo gli azzare. Aiutare gli ricordi. Ma bu questo. Attenzione! No! Ma che cosa? Ma che cosa? Sempre quando uno ha poca vita. Oh, era di spalle senza vite, è arrivato a seo e gli ha tirato un appuntino. Scusa! Io stavo cercando Svittle, dov'è? Stavo cercando lo Swiffer, senti che scusi! Si, stava cercando Svittle. Chi è Svittle adesso? Queste è pure le scuse. Vediamo, vediamo i due campioni in carico. In cantina! Ha preso una Dato! Una botta a legna Dato! Lui ha... Come le ali in quella maniera lì se le usi... Andiamo a fare la Svittle ma non credo. Starebbe bello. Poi contro Azeo. Eh ma non ha vita. Azeo è ghiotto di quelli senza vita, purtroppo. E purtroppo! Mi ha chiusi un sacco, bro Azeo! Pi 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 pi! De cecco la pasta su... La pasta su pibe! No, ci si sei Azeo! Ci sono decisi tutti tranne uno! Ci sono morto! No, che scusa! Ah, tu e Marte! Ti ho fatto Johan! Se l'ho fatto noi! Azeo è una Cisi 6! E io ho perso contro Azeo! Azeo! E ora non puoi fare! Quando è che fissa un Azeo? Mai? Lui è il Pg. Puoi fare un'altra? Se ci sbrichiamo sì! Rapida eh! Mi raccomando! Rapid! Siate già pronti! Tutti in mid lane! Tutti in mezzo eh! Passaci cosa! Aspetta! Oh! Ce la facciamo andare tutti in mezzo, bro! Vi lascio di tutto in mezzo! Lava, nucleare, tutto! No, quello lì non lo puoi fare! No, la lava no dai! Che poi non c'è... Non ti azzardare! No, la lava più che altro tutti in mezzo o non ci muoiono tutti? Da, costringerò gli altri ad andare in mezzo! Quello sì! Se c'è qualcuno fuori, verrà schiacciato dalla potenza furente degli Azer! Eh, beh, i punti sono quelli che sono, quindi... Ho guardato la foto adesso di che cos'era la tetta lì delle monache, è una roba buonissima! Allora... Ho messo il codice nei vari gruppi! Ho pianto! Mi raccomando eh! Lava nucleare, lava nucleare! Marco non sta entrando! Com'è? Ah beh, incaricamento, sì ma sta entrando! Eccomi! Sex! Palla di sex! Dai eh! Veloci, veloci! Entrate! Entrate, avete tempo! Un secondo! Ah madonna! Uno, partite! No, non è vero! Però muovetevi eh! Veloci, veloci che rientrate! Pochissimo tempo per rientrare questa volta! Palla di Pinot! Palla di Pinot! Palla di Pinot! Palla di Pinot! Allora... Allora, se ribecco Ion è veramente una sfigata! Partiamo tra... Cinque! Quattro! Sono una specialità del sud e sono buonissime! Sono veramente troppo buone! Due! Sono spettacolari! Uno! Adesso! In qualsiasi modo! Morbide, con dentro bello la cremosina! Allora, via tutti nel mezzo eh! Potete raccogliere le risorse indirigendovi! Non sei! Eh beh! Io sono partito! Ho detto che partivo! Tutti in mezzo abbiamo detto! Sì sì! Sei tutti in midline! Questa è una partita... Non esco di qua! Ah! Anche da me è un mezzo problema! Può uscire eh! Sono dove... Già c'è la lava qui! C'è la lava infatti non so come... Come anche tu! Saremmo uguali! Ma io muoio qui! Ma c'è il percorso! Ma si sa che hai quei salti! Epple la line! Sì! Selfie stick! Selfie qua di Final Fantasy? No! Lui dici Final Fantasy? Final Fantasy! Final Fantasy! Lo dico all'italiano io! È proprio un terrone Marco! Final Fantasy! Final Fantasy! Come Call of Duty! No! Probabilmente è giusto! Sicuramente! Ah! 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 Ma ora ti vedo! Ehm... Ehm... Devi aspettare un bel po'. Ehm... Come cazzate! Non hai l'arpione scusa! No perché l'imbecille già solo... No io perché sono per l'arciere! Fa schifo Marco la... Niente da Dio Marco! Marco non sei neanche riuscito a arrivare nel mezzo! Va che bravi! Siamo tutti nel mezzo! Eh ma credo sono nato... Allora sono nato veramente in un'esplosione nucleare! Eh però io! Devo fare platform! Cioè scusami se ero un partito con una partita vera come ne uscivo da quella situazione! Scemo, ero qui AIA Qualcuno ha sentito il mio urlo Ho sentito l'urlo mio Da qualcuno io Non è vero Non è vero E allora Amici perché voi non sentite più E allora L'ho clipato a me L'ho ucciso Era un po' che l'ho clipato Ma tanto da meno un clip Quindi non posso attivare nulla Che pal Che ansia Allora Verso di qua devo andare C'è Abona che sta combattendo Pipiri Non ho fatto il cacchio Non c'ho legna Mi arriva a zero la barra azzurra e il freddo Ma Io però voglio attivare robe Che miseria Vai in strada Mart Mi dai il permesso di attivare la lava Ma dove? In mezzo Ma muoiono tutti No No E' palito Metti qualcosa Mestico Eh ma la nuke Non ha senso Perché devono scappare fuori Eh no ma non puoi mettere niente Mi sa Non ha senso niente adesso Al massimo se Per far più veloce Puoi mettere la nuke L'ho chiamata Prima della nuke L'ho ucciso Ma che sta facendo Lorenzo? Pazzito E' ubriato No per te Porca paletta porca Ah Oh tutti su di me sono Via andate Ho vinto Tutti li ho uccisi Tutti Tranne Marco che si è suicidato Come un nostro il mantello C'ho il mantellino Da stronzo Tutti Io Vagabondo che sono io Vagabondo che non sono altro Oh ma non mi sta dando un cazzo Ho preso prima di Cioè Ho preso più punti prima Ho fatto 4 kill Li ho uccisi tutti Ho fatto Come si dice Ace Allora è Marco che si è suicidato Ripetiamo che purtroppo Pagnetto La terza volta Ho vinto 3 volte 3 volte nella lava Io credi Un povero disgraziato Marco Amici Igor Allora amici Vagabondo che sono io Che non so Andiamo tutti da gatto E gli diciamo E quindi Ma che schifo Ma che schifo Ma perché adesso Hai clipato tu Ma che schifo Ma io non ho più parole Sei diventato un uomo di merda Solo senso E ruti Ma dove che sono Solo senso e ruti Sono animal crossing Tutto il giorno Solo senso e ruti Di parlare dico Ma tipo quando mai Sono stato bravo a parlare Una volta Le parolagge Adesso sono Ma le parolagge non le dico Le dici tu E certo Però scopare Pondare Sperma Palla di seme Palla di seme è tua Comunque Tutta roba tua che Ma io Non mi definisco Un puritano E chi Io si E certo No Andatevene via da gatto Subito Fuori Via Andate da gatto E dite Quello che ho detto prima Ma in maniera scritturale Quindi Gurt A domani con Metal Gear La live di Mark E FIFA E' vero Ciao belli Ciao belli Grazie Artorias Grazie Artorias Buon giornata